Allora, mister, una vittoria importante, soprattutto una vittoria meritata, una vittoria che serve per archiviare il capo di Benevento. Sì, noi, secondo me, abbiamo fatto un'ottima prestazione oggi, abbiamo vinto meritatamente, abbiamo dato una bella risposta sul campo, sul piano dell'aggressività, della determinazione e soprattutto la squadra ha giocato con grande vigoria e ha portato a caso un successo molto importante. A proposito di risposte, lei ieri in conferenza stampa ha detto io non rispondo al Presidente, le mie considerazioni le tengo per me, però oggi ha risposto sul campo la sua squadra perché questa vittoria permette al Pescara di portarsi a tre punti dal primo posto e a un solo punto dalla Piazza d'Onore. Per la Serie A diretta c'è anche il Pescara. Ma noi giochiamoci partita dopo partita senza pensare a cosa succede, cosa non succede, come abbiamo fatto oggi, con grande capabilità, squadra tosta, aggressiva, non si deve mollare niente. Poi alla fine vedremo quello che succederà. L'importante sarebbe adesso intanto raggiungere l'altro obiettivo che sono i play-off. Una volta raggiunto quello poi si vedrà il La Fassi se saremo più in alto in classifica. C'è un po' di rammarico per qualche punto perso per strada anche scioccamente, anche a Benevento pur non meritando quel gol nel finale, i due punti persi a Padova nell'andata? La Malico c'è sempre nel corso del campionato dove puoi perdere dei punti, però non bisogna mai guardare indietro, bisogna sempre guardare avanti, cercare di migliorare sempre, di lavorare sul campo, parlare poco, pedalare che è la cosa più importante come abbiamo fatto oggi e poi se saremo bravi alla fine vedremo cosa succederà. Pescara Pilon che sa vincere anche senza Brugman, che sarà assente anche a Cittadella, c'è questo stiramento, probabile ritorno in campo a Lecce. Oggi la squadra ha giocato di qualità e di quantità. Sì, la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Brugman rimane un giocatore molto importante per noi insieme a Balzano e Capone che ha avuto anche un virus intestinale, perciò ho la fortuna di avere dei bravi calciatori. Tutti sono a disposizione, tutti lavorano bene, tutti lavorano per la causa del Pescara. Avremo anche dei limiti, però questa squadra ha un'anima, un cuore e l'ha dimostrato anche oggi. Due parole Pilon per Bruno, le possiamo però spendere. Direi una prestazione sontuosa del centrocampista del Pescara, è uscito fra gli applausi dell'Adriatico e questo non accadeva da tempo. No, sono molto contento per lui perché era una situazione un po' imbarazzante, nel senso che quando entrava in campo era colto dai fischi. Invece oggi ha risposto molto bene, il pubblico è stato eccezionale perché ha applaudito, l'ha incitato e questo gli rende merito perché la gente quando vede i giocatori che lottano e che non mollano mai, sono sempre contenti al di là del risultato. Pilon, se le avessero detto ad agosto che il Pescara il 3 marzo era a tre punti dal primo posto, lei cosa avrebbe risposto? Avrei messo la firma, sicuramente. Parliamo anche di questa gara di Cittadella sabato, una gara importante, difficile contro una squadra che ha vinto a Brescia, non ci sarà Marras squalificato e dunque bisognerà sostituire il trequartista, ci sta già pensando? Ma adesso vediamo, ho una settimana di tempo per lavorarci su, in mente, in testa ho già qualcosa però devo valutare bene perché bisogna provare anche dei giocatori in quel ruolo lì, vediamo, vediamo, farò le mie considerazioni, potremo anche ritornare al 4-3-3, potremo fare 4-3-1-2, è una situazione che devo studiare attentamente cercando di sbagliare il meno possibile. Ha visto il presidente Sebastiani prima? Sì, sì, ci siamo salutati ma non c'è nessun problema, io non ho nessun problema con nessuno, nel senso che faccio il mio lavoro, cerco di farlo nel miglior modo possibile, alle volte sbaglio anch'io, non sono un mago, non sono nessuno. Non è scaduto il termine per l'opzione del contratto? Non c'è nessun problema, il contratto è l'ultimo di miei pensieri proprio, il pensiero è sul Pescara, sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere, sul lavoro che deve fare, la concentrazione su quello, quello del contratto proprio non è un problema per me.